Susanna Moccia, presidente Giovani Confindustria Napoli, ha voluto fortemente questa giornata con una location diversa e suggestiva. In quest'oggi infatti il confronto tra profili aziendali si fa a Ischia. Sì, siamo felicissimi di essere qui ad Ischia. Fortemente è voluta questa location perché siamo a luglio, siamo in un periodo dove ci sono bastate le stanze chiuse, l'aria condizionata, il caldo e il freddo. Quindi godiamoci l'aria aperta, il sole e il mare che sicuramente fa da sfondo e la fa da padrone in questo caso. Abbiamo voluto anche questo B2B perché spesso nelle nostre associazioni parliamo di tutto ma non parliamo delle nostre aziende che ci danno la forza e la possibilità di trascorrere il tempo tra di noi, di conoscerci e crescere professionalmente ed anche con amici e con nuovi conoscenti sul nostro territorio. La cosa più importante oggi è non cercare sempre su internet un fornitore ma cercarlo tra noi amici. Quindi ecco che finalmente abbiamo saputo chi di noi produce, chi di noi ha un servizio o chi è disponibile anche solo da ascoltare. E questo è importante, ciò significa che va bene i social, va bene i media, però la parola e il guardarsi one to one uno negli occhi degli altri penso che non apprezzo. Grazie a tutti.